Tonfo Casalingo del Bitonto con Martina Franca di Massimo Pizzulli che spugna l'Antonucci di Bitetto con un 1-2 da K.O. al tramonto della prima frazione. Mister Valeriano Loseto deve fronteggiare l'emergenza figliolia indisponibile dell'ultima ora e piazza fra i pali Lover-Tarollo e in attacco l'implume di Michele al fianco dell'encomiabile tedesco. Il governo del centrocampo è affidato ai senatori Navas e a Campora. I martinesi presentano tre ex nei ruoli nevralgici dei diversi settori. In porta il furiclasse Antonio Figliola. Al centro dell'invalicabile reparto arretrato Silletti. Davanti il talentuoso Maffei accanto al figlio del bomber argentino e pur prolifico Martín Palermo. In mezzo le piote savie di Francisco Perez Gran Fornina direttamente dalla cantera del Real Madrid. Dopo le consuete fasi di studio al quinto Evolella danza al limite stanga a giro fuori d'un soffio. A cavallo del quarto d'ora botta in risposta. Prima Tuccito ci prova dalla medesima zolla ma calcia sbilenco poi il lob chilometrico di tedesco fuori misura. Minuto 21 stavolta è Perez a concludere da fuori. Pallone smarrito per i campi nei pressi dello stadio. All'improvviso ecco le fiammate ospiti che decidono il match. Al trentottesimo cross chirurgico di Mancini e incornata vincente di Virgilio. Tre primi dopo azione corale biancazzurra. Cuoio a Palermo che viene abbattuto in aria da Gianfreda. Dal dischetto il sudamericano raddoppia. Nella ripresa espulso il tecnico barese nell'intervallo l'undici di casa viene rivoluzionato e si renderà pericoloso solo in due occasioni. Al settimo pennellata di Acampora su punizione e volo prodigioso di Figliola all'incrocio. Diciassettesimo sinistro velleitario di Maffei da lontano. A dieci dal termine e mezza girata a mesta di Mariano dallo spigolo sinistro dell'area. Mancino letale di Mariano dal limite e il guantone dell'estremo palesino manda la sfera sul palo. Colpo di testa di Mariano alto sopra la traversa al trentanovesimo. Salvataggio acrobatico di lo bianizze sulla linea su tiro di pinto allo scadere. Finisce così con gli triani sempre più sicuri di sé e i leoni spaisati come non mai.